Oggi facciamo un nuovo gioco, Indovina l'Incipit. Vi leggerò un breve brano tratto da un racconto, un romanzo o magari anche un saggio e voi dovrete indovinare a quale libro questo inizio appartiene. Una mattina Gregor Samsa, vestandosi da sogni inquieti, si trovò mutato nel suo letto in un insetto mostruoso. Era disteso sul dorso, duro come una corazza, e alzando un poco il capo poteva vedere il suo ventre bruno convesso, solcato da nervature arcuate, sul quale si manteneva a stento la coperta, prossima a scivolare a terra. Una quantità di gambe, compassionevolmente sottili in confronto alla sua mole, gli si agitava dinanzi agli occhi. Che mi è accaduto? Pensò. Non era un sogno. La sua camera, una camera normale da essere umano, soltanto un po' troppo piccola, aveva il solito aspetto fra le quattro note pareti. Al di sopra del tavolo, su cui era spiegato un campionario di stoffe, Samsa era commesso viaggiatore, era appesa a una fotografia che egli stesso aveva ritagliato qualche giorno. giorno prima, da un giornale illustrato, e incorniciato con una bella cornice dorata. Rappresentava una signora con un berretto e una sciarpa di pelliccia, che sedeva rigida e levava verso il riguardante un enorme manicotto in cui le scompariva tutto l'avambraccio. Lo sguardo di Gregor si levò allora alla finestra, e il cielo tetro si sentivano battere le gocce di pioggia sul davanzale di lamiera, finì di renderlo malinconico. «Se dormissi ancora un poco e dimenticassi tutte queste pazzie?», pensò, ma fu assolutamente impossibile. Era abituato a dormire sul lato destro, e nel suo stato attuale non gli riuscì di mettersi in quella posizione. Per quanto tentasse con tutta la sua forza di gettarsi sul fianco, oscillava sempre e ricadeva, in posizione dorsale. Lo tentò più di cento volte, a occhi chiusi per non vedere tutte quelle gambe guizzanti, e rinunziò soltanto quando incominciò a sentire nel fianco un dolore leggero, sordo, non ancora mai provato.